Ciao, sono il dottor Giampallo Napoleone. Se fai sport la mattina ti sarà sicuramente capitato di chiederti qual è il momento migliore per fare colazione. Ti dico subito che il momento migliore è dopo aver fatto sport. Infatti, muovendoti a stomaco vuoto, permetterai la mobilitazione dei grassi. Questo ti permetterà di bruciare la massa grassa e aumentare la massa magra. Dopo aver fatto sport è invece necessario reintrodurre tutte quelle sostanze che permettono ai muscoli di ricostituirsi e di ricostituire le riserve energetiche. È quindi fondamentale che tu assuma delle proteine ma anche dei carboidrati. Ottima fonte di carboidrati è per esempio la frutta fresca che in questo periodo abbonda. Puoi utilizzare invece come fonte di proteine delle uova che puoi fare sode, strapazzate, in qualsiasi modo vanno bene, anche della ricotta che è magra e ha molte proteine. Puoi aggiungere anche della frutta secca che invece è un'ottima fonte di grassi buoni. Se hai problemi a fare colazione con queste cose perché magari non ti vanno, puoi prendere delle proteine in polvere e scioglierle in una bevanda che può essere il latte ma anche il latte di mandorle, il latte di avena, in questo modo avrai comunque la tua quota proteica che ti manterrà sazio per l'intera mattinata, ti permetterà di arrivare a pranzo. Se i miei consigli ti sono stati utili condividili con i tuoi amici. Grazie e arrivederci al prossimo consiglio.